I lavori per la realizzazione del tanto atteso ponte di legno sul Vomano che permetterà di collegare il comune di Roseto con quello di Pineto sono fermi oramai da mesi. Lavori che ricordiamo erano iniziati nell'agosto 2017 e si sarebbero infatti dovuti concludere in un primo momento a fine dicembre 2017, poi a inizio estate 2018, ma ad oggi il ponte ancora non c'è. Una situazione su cui la provincia di Tenamo, soggetto attuatore del progetto, ha annunciato che presto ripartiranno i lavori per essere completati prima dell'estate. Fermi da troppo tempo ed è una situazione per la quale la politica deve solamente chiedere scusa ai cittadini anche se non ha tutte le responsabilità, però avendo in mano la responsabilità appunto di concludere i lavori, dobbiamo porre in questo momento il piede sull'acceleratore e andare avanti. Due parole, un appalto concorso, purtroppo una delle modalità che abbiamo ereditato e che non è sicuramente funzionale, la ditta che vince in base anche ad un progetto che è stato approvato e quindi la ditta che ha difficoltà non permette neanche lo slittamento immediato alla seconda ditta. Quindi per rispondere a chi ovviamente dice in maniera facilistica bisognerebbe toglierla la ditta per far subentrare la seconda. Siamo in maniera responsabile con un grande lavoro degli uffici, della dirigente, di tutta la parte politica spingendo la ditta che però notiamo che non reagisce poco elastica a queste reazioni a ultimare la parte in cemento, cioè quella che deve comunque completare i due pilastri. Abbiamo una proroga ottenuta con grande fatica dalla regione al 13 di aprile 2019 per la conclusione dei lavori. Ovviamente conclusa la prima parte poi il posizionamento del ponte non è un lavoro lungo ma semplicemente bisogna avere la liquidità per poter acquistare il materiale per porlo in essere. E poi raccordarci con il progetto della pista ciclabile di Roseto sul quale però già ci siamo abbastanza avanti perché i tecnici sono incontrati e si sono parlati. Roseto, provincia e soprattutto i cittadini che abitano una risposta immediata a questo problema importante.